Ciao bambini, oggi leggiamo i musicanti di Brema. Un giorno un asino scappò dal suo patrone per andare a Brema a suonare nella banda municipale. Lungo la strada incontrò un cane, un gatto e un gallo che decisero di seguirlo per fare insieme musica nella banda di Brema. Di sera videro la luce di una casa. Lì abitavano dei briganti che si erano messi a tavola per cenare. L'asino allora si avvicinò alla finestra. Il cane gli salì sulla groppa, il gatto su quella del cane e il gallo su quella del gatto. Poi tutti insieme fecero una gran confusione. I briganti, spaventati da quella spaventosa e rumorosa apparizione, scapparono dalla casa. I quattro amici mangiarono la cena dei briganti e si ribossarono nella casa, tutti contenti.